Per l'esame vengono distribuiti due tipi di fogli, quello delle domande e quello delle risposte. Sul foglio delle domande bisogna scrivere a mano il nome, nella casella nome, nome e cognome, poi la propria matricola, cominciando con i 3.0 e poi a seguire i vari numeri che compongono la nostra matricola. Nella casella Study Code si scrive il nome della propria materia, della materia dell'esame. E finalmente si scrive la propria firma dove dice Signature. Oltre al foglio di copertina ci sono poi i fogli con le domande e le risposte. Su questi fogli voi potete lavorare tranquillamente scrivendo quello che volete, segnalando delle cose, indicando se vi sembra che questa o quell'altra risposta possa essere vera o falsa, eccetera. Sul foglio delle risposte dobbiamo inserire ugualmente a mano il nome e il cognome nelle corrispondenti caselle e mettere la nostra firma dove dice Signature. Poi a destra troviamo la griglia nella quale andremo ad inserire la nostra matricola. Segnaliamo innanzitutto nella riga di sopra il nostro numero di matricola in questo modo e poi marchiamo le caselle corrispondenti ad ogni numero in ogni colonna, lo 0 con lo 0, giù l'1, poi 4, eccetera. Attenzione a marcare bene con una X che non esca troppo dal quadretto, altrimenti il sistema non lo legge. Stessa cosa per indicare le risposte considerate valide. Si mette la X ben chiara senza uscire dal quadretto e se consideriamo che abbiamo sbagliato possiamo innerire in questo modo il quadretto e mettere la risposta nella casella che consideriamo invece valida. Una volta finito il lavoro lo possiamo consegnare.